e buona pasquetta fratelli nerazzurri, aspetta lo facciamo in diretta, guarda lo facciamo in diretta perché oggi è vigilia oggi è vigilia, è così ancora, guarda, oh, è intonso, è così ancora da, ditelo voi da, no, pera puttana, da Salerno quindi lo mettiamo a posto insieme, facciamo il rito propiziatorio, lo mettiamo a posto, eccolo qua bello intonso, tac, pronto per domani, per essere demolito sia positivamente che negativamente, diciamo porca puttana ragazzi, buongiorno, come va, buona pasquetta, buona pasqua passata e buona pasquetta ragazzi, vigilia, 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 aspetta che volevo togliere qua, un attimo whatsapp, ok allora ragazzi, allora, buongiorno a tutti, un saluto a tutti gli iscritti al canale, buon lunedì di pasquetta adesso, tra un po' vado a fare una camminata propiziatoria perché poi c'era grigliata, siccome sono andato a correre anche l'altro ieri quindi, ci sta, ci sta, intanto vi invito ad andare a vedere, guarda qua, guarda cosa c'ho qua guarda cosa c'ho qua, questa, questa è una delle mie preferite in assoluto, questa qua la sto finendo di sistemare, vedete, come è tutta rovinata praticamente vi ricordate che erano attaccate lì ai lati, tante coreografie e nel giro di due anni col sole, si sono, sono andate a puttene, usando una sottile metafora quindi ho fotocopiato a colori e ci sto ricalcando sopra per fare tornare allo stato originale ieri ho pubblicato un video di 5 o 6 coreografie veramente belle tutte queste cose mi serviranno più avanti e vedrete poi il perché quindi vi invito ad andare a vedere il video, il video di ieri intanto dura 4 minuti allora ragazzi, allora, prima di parlare della vigilia, di questa vigilia, questa partita, no? vorrei fare un applauso alla società Lazio brava Lazio, brava sei stata brava perché ci sta? queste sono le risposte che mi aspetterei anche io dalla mia proprietà, dalla mia società un bel dossier, un bel video, eh? dove hanno montato tutti i cazzo di falli, perché questi qua mi erano come i fabbri questo è un video di risposta anche a quei cazzo di gobbi, no? quei tristoni gobbi che sono venuti a scrivere, cioè dopo Salerno, Salernitana-Inter erano ancora talmente che se la sentivano in culo e vengono a scrivere colpa di Quadrado, è colpa di quello i gobbi, no? poi dopo la sera prendono due popocchi dalla Lazio ed è bellissimo, perché si lamentano sul gol cioè, si lamentano sul gol quello gli ha messo, gli ha appoggiato la mano dietro alla schiena quello ha fatto la cagnotto e secondo loro quello è fallo cioè quello ha fatto la cagnotto ok? ripeto, il loro gol contro di noi viziato da tre tocchi di braccio e mano tutto a posto qui ah! no! scandaloso! scandaloso dare cioè, cose fenomenali e poi, Dulcis in fundo siccome Dzeko eh, scusate siccome Lukaku, secondo questi fenomeni era da espulsione eh, Locatelli 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 che fa le cose per bene ha fatto la stessa entrata che fece tre settimane fa in Inter Juve su Lautaro quindi, Locatelli tacchetti, tacchetti sul ginocchio contro di noi neanche fallo contro di noi neanche fallo erano due rossi questo tutto a posto insomma, Quadrado doveva essere ammonito ancora espulso quindi, mi fa ridere che i Gobbi si lamentano ok? si lamentano poi hanno giocato un quarto d'ora e venti minuti porca troia si lamentano di questi non episodi anzi anzi ha ragione Sarri non so quanto doveva finire la Juve ma è così picchiano come i Fabri ma sono impuniti contro di noi il primo ammonito per protesta è stato Barella cioè, rendiamoci conto quindi mi fa ridere questo è un video risposta soprattutto a quei pizzerroni che sono venuti a scrivere sotto il video di Salernitana e Inter hai capito? questi se la sentivano ancora ecco un paio di Quadrado e te la sento a culo un'altra volta e la Lazio brava brava Lazio che gli ha fatto un bel video di tutti i falli dove hanno menato come Fabri allora questo era giusto era giusto dirlo perché insomma ne abbiamo sentite di ogni questi si lamentano vivono nel loro metaverso allora Benfica e Inter ragazzi Benfica e Inter tra l'altro Benfica ha perso è ancora ovviamente primo però insomma ha perso in casa col porto proprio col porto quindi saranno pure incazzati pure loro ho visto parlando proprio di coreografia ho visto l'atmosfera del Daluz come chezzo si dice proprio col porto interamente lo stadio ricoperto di cartoncini un'atmosfera della Madonna quindi ci aspetterà un clima caldissimo poi sono pure ingazzati ma dovremmo essere ingazzati pure noi per quanto riguarda la formazione ragazzi ieri uno mi ha scritto ma no ma Diego ma che come fai a dire di Lukaku ma Lukaku è un paraca Lukaku di qua Lukaku ragazzi attualmente di quelli che sto vedendo attualmente dei quattro attaccanti è vero che si è mangiato i gol ma è quello più presente è quello che fa di più perché Dzeko poverino è un mese e me due mesi che quasi non la vede la palla Correa a parte oggi che farà due arrosticine e quattro salamelle che cazzo fa? Lautaro nel suo periodo negativo guardate cosa si mangia guardate come non è neanche presente in campo perché ricordo che prima del mondiale era lui che suonava la carica e lo si diceva ma adesso no a meno questo cazzo combatte lotta fisico sportellate colpo di testa tiro di destra tiro di sinistra ma che cazzo doveva fare perché gli altri cosa hanno fatto e quindi mi devo per forza appoggiare su di lui attualmente per quello dico secondo me dovrebbe partire titolare lui e no Dzeko ma no perché perché Dzeko è il suo momento è quel suo momento l'abbiamo visto l'anno scorso quindi cacca puttana c'è proprio il sole che mi rimbalza qua veramente ma che storia tac tac quindi non capisco il vostro ragionamento cioè attualmente dei quattro attaccanti che cazzo devo mettere Lukaku per forza e poi per quanto riguarda per quanto riguarda il resto della formazione non lo so io sinceramente senza ciala ciala io questo Brozo cioè è uno che cammina in campo non lo so non c'è proprio questo quando ha fatto il rinnovo non c'è quindi so che questo figurati Aslani non ha tenuto in campo 90 minuti neanche neanche con la Salernitana però dovresti avere i coglioni di buttare dentro i giovani anche lì anche lì perché comunque ti serve ti serve turnover ti serve farli girare lo vedi come stanno alcuni alcuni pascolano in campo e quindi io farei io anche domani metterei i giovani magari non da subito io partirei con Aslani io Aslani lo farei giocare questo c'è i piedi questo c'ha i gamba questo è forte è vero sto ragazzo e non lo si dice adesso lo si dice l'anno scorso quando il Pirla era in Terempoli e mi ha fatto pure la pera contro e io l'ho visto 90 minuti in campo Aslani e quando l'Inter l'ha preso io ho fatto la ola perché se vi ricordate feci il video Aslani arrivò all'Humanitas assieme a Lukaku e tutti erano lì per Lukaku però visto che c'era Aslani e lui quindi lì ci fu il primo impatto col pubblico interista quindi io sto ragazzo vorrei vederlo in campo finché non torna a Ciala Ciala ma no ma non solo per Brozovic perché può fare la mezzala nella sua nazionale gioca mezzala quindi può far rifiatare Barella visto che Barella è l'ultima un po' meglio però insomma le ultime prestazioni di Nicolò l'unico è Mickey Mickey che continua a spingere ma cazzo poi fa gli sbagli anche lui è grazie al cazzo ma come spinge ma che classe che ha cioè quindi non è che ti puoi affidare tutto il tempo Gagliardini anche no Gagliardini non vorrei più vederlo se fosse possibile visto che comunque è proprio fuori dal progetto comunque non deve essere lui il primo cazzo di cambio a centrocampo cioè non esiste sta roba qui per me non esiste oppure quando piuttosto di buttare dentro Bellanova si inventa D'Ambrosio Venevaricose lo mette lì quello lo mette lì voglio bene a Danilo per l'amor di Dio ma non è più il Danilo hai capito cioè passano gli anni per tutti quindi un po' più di coglioni a buttare dentro sti ragazzi visto che li abbiamo presi se no che cazzo l'abbiamo presi a fare l'anno scorso il calciomercato è stato visto che Lukaku adesso lo sto rivedendo i due ragazzi non me li hai mai fatti vedere tutto qui basta ragazzi ci aggiorniamo domani per il giorno del football buona Pasquetta ancora a tutti adesso il sole è sulla nasca sempre forza Inter condivisione del video attivate la campanella e brava brava società la Lazio mi piacerebbe che anche l'Inter ogni tanto rispondesse così anche perché poi dopo che ci sono eh tutto sport gli scandali parla di scandali tutto sport ieri o oggi no era ieri diceva come se fossero accerchiati da tutti hai capito siamo veramente al ridicolo quindi speriamo che cambia qualcosa nella nostra società al più presto perché insomma mi sembra che le notizie adesso incalzano di modo da avere anche non lo so Marotta non parla più nessuno qualcuno ogni tanto che dica qualcosa Zanga Zanga adesso lo vedremo domani lo vedremo e se vince si presenterà mi sono rotto le palle anche di queste cose ripeto complimenti società Lazio ciao ragazzi e sempre Forza Inter